La quattordicesima edizione delle Fonti Awards, che si è tenuta in una delle location di maggior fascino e prestigio a Milano, ha consacrato l'eccellenza del mondo imprenditoriale, legale e professionale, che si sono distinte per la rilevanza delle operazioni seguite, l'alta specializzazione e gli ambiziosi progetti messi in campo, senza dimenticare l'innovazione e la leadership. La premiazione è stata condotta dagli anchor di Le Fonti, punto di riferimento nel panorama dell'informazione finanziaria, economica e giuridica, che vanta una community fidelizzata di oltre 10 milioni di persone in oltre 125 paesi. Buonasera dottoressa Marina Montepilli, HR Director di Alleanza Assicurazioni. Oggi abbiamo il piacere di parlare con lei del mondo HR, tema scelto dalle fonti per questa nostra serata particolare. Parliamo di hard e soft skills. Secondo lei, quali competenze sono necessarie oggi per affermarsi nel mercato del lavoro sempre più competitivo? Guardi, è in corso una digital transformation molto intensa e molto veloce, che cambia un po' lo schema e le regole del gioco. Quindi è fondamentale, a prescindere da quale siano le funzioni che poi si intendono ricoprire, qual è lo sviluppo che si vuole avere in un'azienda, avere almeno una base di artificial intelligence, di avere conoscenze almeno basiche, digitali, per cui non mi riferisco alle competenze anche di natura tecnica, ma avere la consapevolezza di come questa trasformazione digitale potrà impattare sulla propria professione. Questo è fondamentale, diventa un elemento determinante e competitivo per il nuovo mercato del lavoro. In più sono necessarie anche delle competenze più soft, la capacità di lavorare per progetti, di lavorare in squadra, di saper narrare ciò che appartiene al proprio lavoro. Bisogna essere capaci di coinvolgere le persone intorno a sé. Dottoressa Montepilli, che cosa possono fare le aziende per trattenere i talenti e non perdere personale competente e specializzato? Le aziende devono essere in grado di mantenere le loro promesse. Mi spiego meglio, vuol dire essere sempre coerenti con i valori con cui si spendono sul mercato. Oggi sono i manager nel modello ibrido che personificano le aziende. Quindi c'è questo grande onere per tutti i manager di sapere che rappresentano l'azienda i suoi valori. Per cui le aziende devono fare un grande investimento sulla leadership e sulla formazione di che cos'è la leadership, i nuovi modelli di leadership che devono essere inclusivi e votati all'ascolto. Grazie dottoressa per questo prezioso intervento e per aver condiviso con noi le sue competenze nel settore IJAR. Grazie a voi.